e basta non chiamiamolo più crescita personale e sviluppo personale ciao a tutti sono zioac dal 1998 il numero uno della formazione underground ecco quando ho creato il mio sito l'ho chiamato migliorati punto org la parte org sta per l'underground immagina capitela da soli come funziona ecco migliorati da subito io parlavo di miglioramento personale ma perché perché continuano cioè anche oggi le keyword di esperti quando le guardiamo su youtube e tutti gli altri canali no crescita sviluppo personale ma se vai dal medico se vai dal medico e ti dice guarda che hai una crescita guarda che è uno sviluppo ma ti tocchi ti tocchi e allora perché la chiamiamo la psicolinguistica l'uso corretto del linguaggio è importante noi non vogliamo una crescita uno sviluppo perché potrebbe essere nella direzione sbagliata della retta orientata la vogliamo in una direzione positiva e quindi chiamiamolo miglioramento personale io da tempo porto avanti questa campagna ma vedo che non viene accolta e quindi pensateci voi mettete un commento a quelli che chiamano crescita sviluppo dico guarda non sarebbe meglio chiamare miglioramento personale perché il mondo non deve crescere non deve svilupparsi è anche pericoloso secondo me ne potremmo parlare in altre volte di termine evolvere deve migliorare possibilmente da ogni punto di vista ovviamente è una cosa utopica però a livello personale lo possiamo fare possiamo migliorare la nostra salute possiamo migliorare le nostre finanze facendo scelte giuste intelligenti tipo io qualche anno fa quando ho investito in certi tipi di criptovalute possiamo fare perché mi permette di sponsorizzare video assurdi tipo questi in cui non c'è niente da vendere le gente dice ma questo sponsorizza dei video in cui non vende niente sì perché sponsorizzo per informare le persone per cercare di far di migliorarle e relazioni terza area molto importante da migliorare sempre come la se migliora con la comunicazione con l'impegno e trovando le persone giuste e molto altro quindi migliora la tua vita non limitarti a crescere a svilupparti migliora un grosso abbraccio ciao